Lo sport in Francia. Come da noi in Francia lo sport è il passatempo preferito per giovani e meno giovani, uomini e donne. La ricchezza geografica del territorio e la varietà dei climi permettono infatti la pratica di tutti gli sport. Chi amerà il sole e il nuoto amerà mete quali la costa azzurra, la corsica, la costa della normandia e quella bretone. Vediamole sulla cartina. Qui abbiamo la corsica e la costa azzurra, qui quella della normandia e quella bretone. Gli appassionati di sci e sport invernali preferiranno invece un soggiorno nella zona dei pirenei o in quella del massiccio centrale dove si pratica lo sci di fondo oppure in alcune località alpine tra le più belle d'europa. Qui abbiamo i pirenei, qui il massiccio centrale e qui le alpi. I francesi seguono con entusiasmo anche il rugby, il calcio e il basket. Sono molto popolari alcuni giochi tradizionali come le bocce che si chiamano petanque e boule a seconda della dimensione delle bocce utilizzate. Sono grandi amanti della vita all'aria aperta ed apprezzano moltissimo passeggiate ed escursioni alle quali si dedicano di frequente. Lo sport più popolare resta forse il ciclismo. È quasi una mania come dimostra il grande seguito popolare che ha il Tour de France. Per chi è in viaggio sono belli gli itinerari in bicicletta della zona di Margeride in Languedoc e vediamo dove si trova nella zona del massiccio centrale qui. Infine il territorio si presta molto bene anche alla pratica dell'equitazione, sono famosi concorsi ippici e del surf. Inoltre non è raro vedere persone che si cimentano con il loro deltaplano nelle zone della lingua d'oca. Vediamo i nomi francesi degli sport. Nuoto si dice natation, sci si dice ski, rugby, rugby si dice rugby, calcio si dice football, basket si dice basket, ciclismo si dice ciclismo, equitazione si dice équitation e infine abbiamo surf che anche in francese si dice surf. Grazie.